Benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi Questo video è leggendario oggi ragazzi Vi volevo veramente ringraziare dei mille iscritti Grazie, grazie, grazie Mi hanno un bacione, è un traguardo bestiale Ora noi entriamo avanti Vi aspetto dopo alle 10 di live Un like, un'iscrizione, una campanella Cercate i tixmax Su tiktok e su discord ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola donazione Primo link in descrizione Detto questo ragazzi come avete letto dal titolo oggi Finalmente andremo a fare per ringraziarvi dei mille iscritti Andremo a fare la prima scioppata della mia vita Su StumbleGuys E nei miei video, nel mio canale youtube Andremo finalmente a scioppare il pass Poi arriverà il video in cui prenderemo il pugno Io sono un po' indietro quindi mi tocca giocare un pochino E niente ragazzi Sono molto molto contento, lo attiviamo subito 3, 2, 1 E... Preso Ragazzi, oh finalmente Ragazzi Ok, no Mi sembrava che mi abbiano scammato Ho finalmente preso il pass Una scioppata su Della prima scioppata dei xmax Ragazzi, arriverà il video in cui Faremo un box opening bestiale Ma voglio di nuovo ringraziare un botto per E... Tutto il supporto Andremo a prendere il pugno In un video Proprio in un video ragazzi Sono molto molto contento Che bello il pugno Quando lo prenderemo Faremo un video bestiale ragazzi E... Detto questo Andiamo a fare il giro fortunato Gratis E andiamo a fare qualche partitella Sono veramente 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 Contentissimo ragazzi Sono veramente contento Vi volevo veramente ringraziare di nuovo Per i miei iscritti Vi aspetta dopo alle 20 e 30 In live ragazzi Non mancate 5 secondari Miglio di 1 almeno Miglio di 1 Andiamo a mettere E... Se start Speriamo di trovare Almeno un altro leggendario In tutte queste soldi qua Che abbiamo Che abbiamo Noi ci picchiamo Quando inizia la partita Tilefall Mi devo concentrare un po' Dai Ho fatto che è anche Molto venuto Con la mappa Che bello Finalmente Finalmente Abbiamo il passo Per questo video Abbiamo Un boccio Di like Io ho vinto Inoltre questo video Perché ragazzi L'abbiamo In supporto Di Dixmax In canale Ma anche Nella vita reale Ci siamo qualificati E molto bene Grande Dixmax Noi ci picchiamo Al secondo round Cannon Climb Non è semplicissimo Però dai Che bello Finalmente Abbiamo il passo Sono veramente Veramente contento Vi ricordo ragazzi Se volete essere I terzi donator Della storia Di Dixmax E... C'è il primo link In descrizione Ho già Il mio primo donator Della storia Il secondo donator Della storia Saluto Gabri Grazie Gabri Di nuovo Che voglio veramente Vi ricordare tanto Gabri è stato il mio primo donator Della storia E anche il secondo Perché ha fatto due donazioni Quindi grande Gabri No Non mi interessa Non mi qualifico Quindi grande Gabri Se volete fare Per voi I terzi donatori Della storia C'è il primo link In descrizione Per fare una piccola Della storia Ah no ragazzi Ci siamo qualificati Comunque Anche se abbiamo sbagliato Un paio di cosine Noi ci becchiamo In final round E cerchiamo di vincere Ragazzi Jungle roll Non sono bravissimo Su jungle roll Però dai Meglio di qualche Altra mappa Magari Non ci credo Sono riuscito a fare il trick Ragazzi Prima partita persa Ma dai ragazzi Riusciremo a vincere Ho provato a fare il trick Ragazzi Tanto avrei perso Come dice Allora dai Ci sta Ci sta ragazzi Proviamo alla prossima Ragazzi Proviamo alla prossima Molto molto bene Non ci becchiamo Alla prossima partita Humble stumble Ragazzi Un like Se non l'avete ancora messo Forza di xmax Nei commenti Ragazzi Vediamo vincere Ora qui ci saranno Dopo alle 20 e 30 Sì alle 20 e 30 Alle 10 La 10 del mattino La 10 del mattino La 10 del mattino E' in questa seconda Scrizione Se per caso Vi sono dubbi De durare Scrivo tutti In istruzione Ragazzi Tutti i link Tutti gli account Tutti i social Tutti in istruzione Secondo TikTok Secondo E ragazzi Siamo qualificati I primi Molto bene Ragazzi Noi ci becchiamo Al secondo round Paint splash Qua ci dobbiamo Concentrare Un botto Ragazzi Qua ci dobbiamo Concentrare Un botto Ok Questo qua Il secondo round Quindi non è che sia Impossible Però Comunque E' meglio Concentrarsi Allora Molto bene Ragazzi Non ci Qualifichiamo Anche perché Mi sembra Che questa lobby Non sia così Scarsa Mi sembra Molto Scarsa Ragazzi Ci siamo Qualificati I primi Ancora Un buon Segnuno E ci becchiamo In final round Ragazzi Un like Se non l'avete ancora Messo perché Mi dovete portare A fortuna Laser game Ragazzi Allora Mi devo concentrare Ragazzi Like se non l'avete ancora Messo per favore Anche un'iscrizione Dobbiamo superare Un'iscrizione Dobbiamo andare avanti Allora Vediamo un po' Dobbiamo concentrare Un bel po' Ragazzi Molto bene Facciamo un bel gg Vediamo No Dai Ma ancora Ma i Dixmax Ma ti dividono Una svegliata Dai Ragazzi Ma com'è possibile Ma com'è possibile Che Sono stato eliminato Subito Ma sono uno Scharsone Questa qua La vinco Questa qua Ve la prometto Questa qua La vinco Ragazzi Floor flip Questa qua La vinco La vinco Ho letto vincio La vinco Questa ragazzi Allora Mi sono qualificato Primo al primo ram Primo al secondo Ovviamente Al finale Arrivo E Vengo subito lì Vabbè ragazzi No Vabbè ragazzi Era ovvio Ragazzi Non mi sta andando Molto bene Devo ammettere Non so se mi qualifico Sono passato Ma perché Prima sono morto Non ho capito Allora Dobbiamo qualificarci Comunque ragazzi Che ve devo dire Ok Passiamo di qua Non ci credo Ragazzi Però Altati Altati Eh raga Ma Ragazzi Ma che sfortuna C'ho E quindi adesso Passiamo di qua Dai Passa Irix Max Non posso Non qualificarmi Ma che giove Ma sto giocando Malissimo Ragazzi Dai Oh mamma Manca ancora uno Che si qualifica Ragazzi Non ci credo Ragazzi ma che scammata Però Che scammata No raga Ne facciamo un'altra Dobbiamo vincere In un video così Leggendario Dai ragazzi Dobbiamo vincere Stapartita Dobbiamo vincere Almeno una In questo video Dai E' un video Uno dei video Più pazzeschi Come hai fatto Ragazzi Non possiamo Non vincere Ma anche se non vinciamo Il video Rimane comunque pazzesco Ok Sono Fatto un salto Perfetto Andiamo avanti Doppio salto Perfetto Andiamo avanti No 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 Itx Max Però ti devi dare una svegliata Stai giocando malissimo Perché in video io sono così scarso Raga in live Gioco meglio Non capisco perché in video Siccome Sto facendo il video Non riesco a vincere Non so per quale motivo Adesso proviamo a saltare qualcuno Ragazzi ma cosa sto facendo Forse mi qualifico Sono passato molto bene Andiamo avanti Ci qualifichiamo Noi ci picchiamo al secondo round Questa qua è l'ultima partita del video E sarà anche una win Ve lo dico io Lost Temple Lost Temple doveva uscire in finale Non nel secondo round Dai Vabbè dai Se non mi qualifico Sullo sample Sclero ragazzi Sclero veramente Perché Non posso non qualificare L'offerto Ok Timing Perfetto Passiamo di qua Con sapere che faccio sempre Mi sembra Non è molto scarso Questi ragazzi Allora No 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 Ragazzi 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 Non si era qualificato Primo Però vabbè Comunque secondo E ultimo round Non so se la vincerò Ci proveremo Onidrop Onidrop Allora ragazzi La situation È difficile Ci proviamo Non ci proviamo Perché Intanto Vinco Su Onidrop Dobbiamo andare con calma Lascio che corre Non si può andare con calma Sul primo strato Ragazzi Non si può Ok Dove sono riuscito a passare Però almeno sono qua Apriamo tutto Perché Non possiamo andare piano E niente C'è sto qui Che Deve andare No 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 Dixmax Te devi dare una svegliata Adesso Però vai piano Vai piano Vai con calma No Ma guarda questo No 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 Non ci credo Ragazzi Che sfortuna Sfortuna bestiale Vabbè ragazzi Niente win oggi Ma oggi non dovevamo fare win Video leggendario Voglio 20 like per questo video Vi volevo di nuovo ringraziare Per i mille iscritti Ci becchiamo dopo alle 20 e 30 In live Finalmente abbiamo sciopato il pass Che faremo anche un video In cui prenderemo Di pugno Apriremo tutto Molto bene E vi aspetto Dopo alle 20 e 30 Dopo alle 10 in live 10 in live 10 2.00 C'è anche scritto in descrizione Cercate Tixmax Su TikTok e su Discord Ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola Donazione Primo link in descrizione Tutte le donazioni Sono apprezzate Non ho ancora Il mio primo donator No c'era già il primo donator Se volete essere I terzi donator della storia Ciao a tutti ragazzi Un like e un'iscrizione Ciao Ciao a tutti